Cinque adolescenti e una maggiorenne si sono picchiate alla fermata del bus in largo Gramsci a Scichili. È accaduto mercoledì pomeriggio. Dalla lite si è poi passati alle mani e per riportare la calma è stato necessario l'intervento dei vigili urbani prima e dei carabinieri dopo. In seguito alla rissa le ragazzine sono state portate in caserma per essere identificate e denunciate. Per una è stato necessario l'intervento dei sanitari per le ferite riportate, per questo è stata condotta al PTE della città. Non si è riusciti a comprendere l'esatto motivo della lite furiosa, si presume che si tratta comunque di futili motivi. Le ragazze sono provenienti, tre da Santa Croce e Camerina e tre invece risultano residenti a Scichili. La preoccupazione ora per i residenti di largo Gramsci cresce sempre di più dal momento che episodi del genere non sono rari e per questo si sono riuniti in un comitato utile ad interagire con l'amministrazione comunale per chiedere interventi volti a garantire la sicurezza. In seguito alla lite furiosa ora il comitato torna nuovamente a chiedere maggiori misure e attenzione. Sulla questione arriva la risposta intanto del sindaco Mario Marino che garantisce che è massima l'attenzione verso il fenomeno e questa zona del centro storico.